Sono Loredana Poli, assessore allo sport del comune di Bergamo. Oggi siamo qui in colle aperto per la partenza del 45esimo Sobox Rally sul circuito delle Mura. Anche quest'anno mi aspetto grandi performance, ci sono delle macchine divertentissime e poi ho visto una meccanica molto accurata quest'anno. Mi aspetto quindi una bella gara e grande divertimento per chi guida o spinge le macchine e anche per tutti noi che stiamo guardando. Voglio ringraziare gli organizzatori, voglio ringraziare quest'anno Confartigianato che ha confezionato un progetto bellissimo insieme ad ABF Formazione. Hanno sfornato tre macchinine, hanno coinvolto alcune classi, insegnanti, ragazzi che oggi sono qui. Voglio ringraziare anche il corpo di polizia locale del comune di Bergamo e la protezione civile. Se oggi siamo qui tutti insieme per divertirci è anche grazie al loro lavoro. Quindi in bocca al lupo per oggi e ci vediamo alla prossima edizione.